Bentornati a tutti guys sul reame di Teleria qui sul canale di ragazzi del secondo piano in compagnia di Stefano allora allora ci stiamo divertendo non poco perché le cose da fare sono tantissime specialmente relative ai vari eventi vabbè tra i pass mamma mia c'è tanto c'è tanto da fare e e e e vabbè adesso c'è out il torneo dei scusate l'evento dei manufatti dove a seconda dei manufatti che avete se li potenziate vi arrivano dei punti torneo facciamo una prova al volo perché fra l'altro scarseggiano le risorse e bisogna andare a farmare in campagna però mi ero acchittato tanti pezzettini a livello 15 che sto tirando su piano piano giustamente perché una volta arrivati a livello 16 ti dà molti più punti rispetto a all'altro livello insomma tipo 12 eccetera vabbè non ci siamo riusciti andiamo a farmare poi non è un problema non è un problema allora andiamo 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 a vedere una parte fondamentale che è alto il torneo durerà ancora mi sembra 24 ore una cosa del genere giù di lì e che è quello del picco del golem glaciale adesso andiamo a vedere a uno dei livelli più alti del picco del golem glaciale chiaramente non sono arrivato al massimo perché il massimo del 20 è piano piano nel senso non sto nel land game anzi penso che sto leggermente più avanti di alcuni di voi sono sicuro che lì fuori c'è gente che mi si magna perché gioca da day one eccetera eccetera perché so meglio loro vabbè comunque andiamo a fare una partita qui semi automatica non ci interessa l'automaticità specialmente mi riferisco a chi sta giocando da poco perché giustamente la cosa che ci interessa è la strategia che c'è dietro nel senso come stiamo andando ad affrontarlo è perché abbiamo scelto quei determinati campioni nonostante alcuni soffrano tipo Tenasil dello svantaggio di colore allora semplice come base abbiamo scelto un'aura di Tyrell che aumenta la difesa a tutti perché quello fa male per compare allora poi abbiamo preso due campioni con i quali Lissandra e la Katun che ci vanno a dare la velocità per attaccare più frequentemente è un Fenax un Fenax un Fenax che non è molto alto ma che data la sua destrezza basilare che andiamo a vedere al volo proprio l'abbiamo scelto proprio per una caratteristica pecuriare che va in qualche modo a contrastare quella che è l'abilità massima che rompe di più le scatole del nostro caro amico Golem Glaciale allora con l'abbattimento c'è il blocco rianimazione significa che attacco il nemico piazza un colpo extra se lo metteva beh affetto da un debuff i nemici uccisi da questa destrezza non possono essere rianimati ecco è qui che c'è la chiave di volta per affrontare al meglio il Golem Glaciale la forza del Golem Glaciale è forte di su è chiaro è un boss e quindi giustamente fa tanto tanto male essendo un boss c'è tanti HP eccetera eccetera il discorso però è questo ogni qualvolta toglierete un tot di HP al nemico il nemico automaticamente contraattaccherà indipendentemente da quanto è alto il contatore di turno eccetera eccetera perché è proprio una passiva sua che andrà a rianimare le sue due guardie del corpo i suoi due minion che non vi fanno male ma uno vi attacca e vi riduce la guarigione quindi non potrete andare a beneficiare magari dell'ealer e l'altro invece vi riduce la difesa ecco che magari riducendo la difesa su campioni difensivi tipo Tyrell eccetera vanno a fare pure meno danno però non è quello perché poi quando attacca il Golem avevo una sciotta quindi attenzione 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 adesso andiamo a prendere la prima parte la schippiamo e poi controlliamo noi la postazione prendiamo in mano il timone e vi faccio vedere come andrebbe affrontato come a chi dare la prerogativa vediamo subito come si concatenano le varie cose che abbiamo messo tanto come vedete facciamo una breve cronaca la katun subito busta velocità e anche lissandra tenasil vabbè due AO e tutti arbar adesso vanno di singole infatti attacco preventivo vabbè lei svuota il contatore di turno che è ottima bravo non serviva qui però va bene ok adesso loro vanno a piazzarsi il rifletti danno stordito l'ealer vabbè non fa niente tanto non è qui che ci interessa credo che sia per finire anzi questa parte vediamo un po' ok perfetto togliamo l'auto ok siamo pronti questa è la situazione di gioco come vedete ci sono i due minion che non hanno particolari debolezze essendo loro del vuoto perfetto fin qui tutto chiaro la prima cosa che andiamo a fare ma che avrebbe fatto anche in automatico sarebbe stato bustare la velocità ed è corretto poi potremmo attaccare con un AOE andando a ridurre la difesa dei nostri avversari che sicuramente avrebbe fatto anche questo lo andiamo a fare anche noi la difesa non è stata ridotta ma non fa niente un po' di danno è stato fatto specialmente a quello di destra lo andiamo ad attaccare con tutto ciò che possiamo ecco è addormentato addirittura potremmo lasciarlo lì così volendo e andiamo però ad attaccarlo con Fenax perché infatti un colpo è stato fatto adesso con la Katun invece di prendere di mira lui cosa che farebbe in automatico andiamo a prendere di mira gli altri e vediamo subito il perché ok lui ci blocca infatti ci riduce la guarigione a zero praticamente andiamo ad attaccare con Tyrell mettendo un debuff al nostro caro amico qui perfetto anche riduzione precisione adesso un Aoi con la Katun sperando di no uno l'ho shottato ok perfetto quello sarà resuscitato quello a destra però adesso con Fenax possiamo attaccare tranquillamente il minion di sinistra quello che piazza la riduzione guarigione perfetto one shottato e rianimazione bloccata e adesso vabbè Tenasil va per forza di cose a curare la Katun purtroppo ci lascerà a breve ve ne siamo già più che certi vediamo se riusciamo a ridurre il contatore di turno con Tyrell non ci siamo riusciti perfetto vediamo se riusciamo con Lissandra non ci siamo riusciti vabbè allora grazie raid vabbè ci aumentiamo la velocità perché dobbiamo andare ad attaccare più velocemente tanto lui adesso sta pensando sicuramente di andare esatto frigida vendetta eccola qui e l'ha riportato in vita ci ha pure congelato grande perfetto vabbè se ne va a piazzare niente non lo piazziamo però possiamo aumentarci il contatore e abbassare il loro perfetto proviamo con un abbassamento della difesa messo adesso attacchiamo direttamente il golem ancora perfetto e ancora il golem vai perfetto e adesso con Fenax andremmo a bloccare anche la resurrezione del nostro minion di destra andando a eseguire un doppio attacco proprio in virtù della sua restrizza basilare che va appunto se qualora fosse presente un debuff sul personaggio attaccato lui andrebbe a piazzare un attacco extra quindi adesso lo uccide sicuramente infatti e blocco rianimazione quindi il nostro amico è rimasto scoperto e adesso possiamo tranquillamente andare di automatico sicuramente perderemo Fenax perché la difesa infatti è quello che è adesso vediamo come si comporteranno gli altri dovrebbero riuscirci infatti l'extra turno la riduzione del contatore lui continua con le sue frigide vendette ci interessa poco sinceramente ragazzi di perdere di tenerli in vita al momento perché qui non ci sono neanche le stelle quindi non ci interessa non penso che lui riuscirà a far fuori la difesa di Tyrell perché lui non piazza particolari debuff quindi a parte il congelamento non credo e infatti non ci fa praticamente nulla anzi penso che adesso vada direttamente al bar a PSR caffè quello guard orte quello che vuole lui andiamo ancora però non è niente vabbè dai Tarell ok conclusa il miglior modo appunto come già detto è lasciarlo in condizione che non abbia i suoi minions a portata di mano perché pure se state in automatico avete dei campioni particolarmente forti oppure lui continuerà 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 ai primi livelli è molto semplice andare a distruggere il golem perché ve lo faccio vedere subito non ci vuole nulla perché noi adesso usciamo da qui andiamo direttamente in uno dei livelli inferiori per dire con magari campioni di un certo tipo prendiamo il 4 per dire prendiamo il 4 andiamo a fare una partita al 4 togliamo tutte le varie combinazioni che ho fatto oppure Tyrell mettiamo un boost all'attacco per dire mettiamo tutti campioncini classici eccoli qui tutti d'attacco e andiamo a fare allora sarà molto semplice perché il golem non è così resistente non è così coriaceo infatti potrebbe subire un danno abnorme già da un campione per dire agli allo 50 o 60 vi invito a guardare la partita intanto e quindi conseguentemente che cosa succede succede che i minion magari rimangono in vita lui non serve che li resta voi prendete di mira direttamente il golem ciao ecco prendete di mira direttamente il golem però quando ci sono i minion a livelli più alti non si può fare bisogna stare molto attenti specialmente se non avete campioni all'artezco ma ti danno già one shottato nel senso questo è quanto ecco finisce così con quanti secondi 24 secondi nitti quindi ragazzi le particolari cose le andiamo a ripetere ancora una volta è avere innanzitutto a favore un quantitativo di velocità assurda magari i campioni che vadano a mettere velocità difensivamente parlando c'è bisogno di una buona difesa di una buona resistenza perché se i minion vi piazzano i debuff vi fa molto male il golem attenzione e poi magari andando a bloccare la guarigione qualche campione lo perdete sicuro ecco perché avere per dire come ho io Tyrell e Lissandra che rimangono tutta la partita lì addirittura dopo che Fennex ha fatto il suo lavoro vanno tranquillamente a resistere tutto il tempo il golem casca prima o poi magari è consigliabile avere non soltanto una difesa ma anche una rigenerazione degli HP che se non state attenti però questo dato dai vari set che hanno magari quel 3% di vita divina tipo che hanno quel 3% di autocura sugli HP però dovete stare attenti perché se i Minion non sono attivi bloccano anche quella anche quel recuperare vita ecco perché bisogna stare molto attenti eliminare loro e far sì che non tornino più in gioco ecco perché sono fondamentali campioni nel vostro team che vadano a bloccare la resurrezione degli avversari ci sono leggendali che fanno questo lavoro benissimo in maniera eccelsa io purtroppo non li ho quindi di consenso sono dovuto adattare ed ecco perché non riesco ad andare molto più alto nei livelli successivi semplicemente perché Fenax non regge poi a un certo punto non regge più proveremo a portarlo a 6 stelle e vedremo se ne varrà l'Atena comunque per qualsiasi domanda dubbio perplessità come sempre siete cordialmente invitati a farle tranquilli nel senso voi fate le domande noi cerchiamo di rispondere nel modo più veloce possibile perché ci siamo quindi siamo lì per voi proprio quindi ragazzi detto questo direi che anche per oggi da Stefano dai ragazzi del secondo piano è proprio tutto ciao